ciao a tutti e bentornati a una bellissima puntata della faffi brain questa sera sono in compagnia con corradone di sopra e paolino di sotto quel gioco il gioco che vi andiamo a presentare quest'oggi è un gioco che per quanto riguarda il mondo del retail è in anteprima per chi segue il keystart invece magari potrebbe già conoscerlo il gioco si chiama project tell e dovrebbe essere in uscita per fine giugno o metà luglio ancora non è precisa la data tramite asmodee come i più acuti di voi avranno notato qui abbiamo dei bei set del tetris e l'obiettivo infatti in questo gioco sarà quello di prendere questi pezzi di puzzle riempirli con i vari pezzettini ecco qua questi qua che abbiamo a disposizione di partenza ovviamente ne prenderemo di più durante il gioco e ogni volta che completeremo un puzzle andremo a prendere un puzzle aggiuntivo un pezzettino aggiuntivo indicato qui in alto a destra e a fine partita i punti indicati in alto a sinistra come vedete qui ci sono due linee di puzzle quelle in alto con il retro bianco sono quelle più semplici quindi richiedono meno spazi da occupare quelle di sotto invece con retro scuro nero sono più difficili ma danno anche più punti ovviamente e quando questa fila non può essere più rifillata non può essere più rimpiazzata e praticamente scatta la fine partita ovvero si finisce il round in corso si gioca un ultimo round e a quel punto la partita finisce e andiamo a contare i punti e non so ho già spiegato il gioco sia a Corrado che Paolo però durante diciamo i primi turni andremo a spiegare le variazioni che possono essere eseguite e non so se voi avete domande qualcosa da aggiungere no l'unica cosa che come mi avevi spiegato le prime regole è che bisogna riepire gli spazi bianchi perché potrebbe sembrare una cosa banale però per me non lo è stato ok giustamente sì perché se c'è 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 gente che vede solo in bianco e nero ma Paolo invece vede in nero e bianco esatto tipo io sono pessimista e quindi vado a riempire le parti nere se sono ottimista vado a riempire le parti bianche mezzo bianco mezzo nero allora allora quindi inizio io perché qui la pancia mi dice che sono il primo giocatore e in ogni turno abbiamo tre azioni da eseguire allora una delle azioni è poter prenotare una di queste belle tessere e io mi vado a prenotare questa qui un'azione quindi andiamo a rivelarne una nuova e poi mi vado a prenotare anche questa a questo punto e queste ovviamente non non creano punteggio giusto però come vedi sono molto semplici da riempire e quindi diciamo l'obiettivo utilizzarle per cercare di prendere dei nuovi pezzi l'obiettivo principale quello lì e a questo punto io direi che mi vado a mette questa qui come mia terza azione quindi di prenotare una tessera è un'azione posizionare un pezzettino è un'altra azione quindi ho prenotato due tessere e piazzato un pezzettino ho fatto le mie tre azioni adesso tocca al giocatore alla sinistra che è il rosso che è corre a do allora io vado a prenotare questa tessera poi prenoto questa e come ultima azione vado a riempire questa tessera a questo punto la tessera finisce qua sulla sinistra riprendo indietro il pezzo che ho già usato di che ottengo il pezzo che c'è illustrato in alto a destra nella carta quindi un'altra un altro trattino da due verde esatto che passo c'è una cosa che non ho spiegato che come vedete qui sulla plancetta i pezzi hanno vari livelli quindi il giallo che è composto da un cubetto è livello 1 questo verde composto due cubetti livello 2 questi sono composti da 3 cubetti livello 3 e poi c'è il livello 4 il livello 5 che sono i bianchi è un'espansione che qui non è disponibile al momento le azioni che sono illustrate poi nella nella plancia di un singolo giocatore sono divise in azioni bianche azioni blu le azioni blu sono quelle dell'espansione che non utilizzeremo in questa partita esattamente quindi non utilizzeremo solo le azioni bianche allora paolino paolino palino tocca a te allora io andrò a prendere questa faccio il dritto e poi vado visto che andiamo a toccare tutti gli diciamo tutte le abilità vado a creare da questo un livello superiore quindi vado praticamente a crearmi un secondo quadratino rettangolino verde esattamente scusami un attimo paolo quindi lui sta facendo l'azione di upgrade l'azione di app esatto per me o di prendere un quadrino giallo oppure di scambiare un tuo pezzo con un pezzo di e lo superiore dello stesso livello o di livello di livello inferiore quindi quindi lo andrò a rifare quindi e andrò a upgradeare il verde di nuovo e vado a prendere un blu perché sono andato a gridare dal dal 2 al livello 3 esattamente si quando fai l'upgrade è solo di un livello vediamo che che si ti avrà questa mossa io all'inizio devo carburare un po mi è piaciuta come mi è piaciuta mi è piaciuta teppia teppia ok quindi io direi che invece mi vado a prenotare questa tesera a prenotare questa tesera bella però questa mi stuzzica mi stuzzica perché è proprio il pezzo che andrò a prendere della un quadratino annaccia e però dopo no come fa così allora c'è ne piaccia con mia seconda azione piazzo questa qui questa l'ho completata questi mi tornano indietro e vado a guadagnare un pezzo blu che è questo qua ora un'altra azione nuova che non abbiamo ancora mostrato è l'azione master l'azione master può essere eseguita una sola volta a turno e ci permette di posizionare un pezzo su ciascuno dei puzzle che abbiamo davanti a noi è opzionale quindi non siamo obbligati ma ovviamente ci permette di ottimizzare le varie azioni quindi metto quello lì e questa di qua ovviamente non posso piazzare i due pezzi sulla stessa tessera deve essere un pezzo su ciascun puzzle e questa era la mia terza azione bene io come prima azione invece vado a prendere questa carta succulenta che possiamo anche iuri era bella e dopo di che ci metto sopra due pezzi ci metto sopra due pezzi seconda e terza azione e passo passo e passa paolo allora io invece vado a fare piazzamento quindi piazzo il blu qua e se ho fatto i conti giusti il verde qui quindi vado a completare questa carta no quindi mi vado a riprendere tu hai detto che riempimi neri e ora ragazzi è la prima volta che ci gioco ok ti è rimasta un'azione un'azione che banalmente prendo questa qui e non vado a punteggio vediamo se pagherà questa cosa che non vado a punteggio non credo però allora tocca di nuovo mua tocca di nuovo mua cosa vado a fa allora fammi pensare un attimino che tipo di pezzi posso andare a prendere come si dice romano fatto un pezzo un pezzaccio no perché devo pensare un attimino bene ecco la paralisi da analisi che prende piede prendo questo poi faccio l'upgrade dai e si duplica faccio l'upgrade di questo trasformo in questo che poi lo vado a piazza qua mi ha fatto le due azioni azioni quindi questo mi va a posto qui questi mi tornano e vado a prendermi uno ziku zaku bene al mio turno come primazione metto il giallo qui completo questa carta li riprendo tutti più una l gialla arancione questa è la prima azione come seconda azione prendo questa carta come terza azione vado a usare la master questa qui questa questa è completata e quindi per un altro il mostro master in commander direi poi paolo allora io farei così perché e farei così e vado anch'io a fare la master cioè vado a fare aspetta come si gira con la q ok una quindi vado a piazzare anche questo 2 e vado a piazzare anche questo 3 e quindi praticamente mi metto dietro una e prendo uno di questi e uno di questi doted esposti a prendere uno di questi e poi basta abbastanza rotto le scatole immagino passo e tu passi allora io intanto direi che questa qui me la vado a prendere perché adesso faccio la mia mastery io questo qui dalle ombre ragazzi per metterli bene e questo va qui di questa era la mia seconda azione andando da ok e come terza azione mi vado a prendere un quadratino ok ma di prendere come pezzi non ho ben capito posso prendere qualsiasi pezzo o solo il quadratino con l'upgrade poi prende solo il quadratino giallo ok cioè prendere così da lì da 0 a 1 praticamente da da niente a 1 ok il concetto è quello benissimo allora io prendo una e prendo 2 e prendo 3 e e e e e e vuoi da bere vieni qui tu per me te lo dico sottovoce vado a prendere vado a prendere dai cominciamo con una di quelle sotto c'è vai sotto eh 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 ah scusa ok no no posto posto volevo poi ah sì scusa una cosa che non ci ha detto Paolo è che le testere quelle con i punti G andrebbero lasciate esposte e poi dai vado a usarla master quindi uno due e tre quindi completo costei costella che mi dà un blu da tre vai Paolito quindi il buon Corraduan tiene testa come punteggio si cominciamo a buffare eh sì certo c'è stata la gufata bene so io che sto indietro come i cosi dei cani come i cosi dei cani bene i coni i coni i coni i coni allora io devo ragionarla bene perché potrei fare piazzo uno piazzo due e piazzo tre scusate se non sono preciso però si capisce chi offre di più quindi questa l'ho fatta e mi prendo uno due tre quattro e cinque quindi ho tutti i bastoncini hai finito eh no c'ho ancora un'altra azione no no hai messo tre pezzi no non ho messi tre giusto scusate ora provo a fare un po' di magia 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 prendo questa e master e poi master e masterizzi master questa qui master questa qui master questa qui quindi completo il mio primo punto wow scusa non te convenia piazzare per ragionare no off game te convenia piazzare prima la verde qui e poi facevi la mastery perchè? è perchè piazzavi una lì e una qui e così avrei concluso anche questa vabbè diciamo che ragionamento la posso concludere adesso ugualmente ah giusto perchè piazzi questa qui ok esatto però il discorso che io adesso ti spiego perchè perchè io adesso con la mia terza azione invece di completare questa fai di nuovo la mastery faccio questa no non si può fare altra volta la mastery ah ok ah once ok faccio questa così che al turno dopo faccio la mastery e le completo tutte e due questa è l'arte dell'ottimizzazione ma non ne hai due verdi non le puoi completare tutte e due perchè non c'ho due verdi giustamente si fare l'upgrade del pezzo da uno come prima azione e poi fai la mastery esatto vedi vedi quello che intendevo scusate eh si regaliamogli i punti dai ma allora come prima azione prendo costei no è costella perchè è una tessera giusto pardon io prendo il pezzo e costei come seconda azione prendo costella e poi faccio la mastery quindi questa se ne va qui allora le stai beccato tu sembra le tessere da un pezzo questa qui questa qui guardalo vedi vedi che cade il poco che è successo perché è crashato che ha voluto far troppo esatto ma io vedo che la mano si muove ancora è crashato solo la discord eccomi ecco ti qui abbiamo fatto tutti gli spostamenti eh è completato il treno è completato ah la faccia no no me ne è dato uno di troppo mi sa no no e ti ho levato quello verde e hai preso quello verde da qui ok a posto eh non lo so hai fatto tutto te hai fatto tutte e tre le azioni corrado sì perché ho preso due tessere e poi ho fatto la mastery ok una cosa però non ok perfetto vai paolo vai nel frattempo non so se sono tornato in video sì sì ti vediamo perché era caduto tutto metto un dito nel naso ecco ti adesso allora cosa posso fare di intelligente metto un dito nel naso sento che io sto in alto e potrei pensi positivo ma non diciamolo pensi siamo in faccia protetta vai come faccio io perché poi ho completo quella master e mi mancano i pezzi allora io mi prendo una oh raga ci andate pesanti ci andate voi eh mamma mia allora quello potrei farlo con questi tre eh e poi mi avanza potrei fare eh eh abbiamo detto quella con qui tre giusto poi con questi tre poi mi avanzano questi tre la scaletta e potrei scusate un attimo la paralisi d'analisi la scaletta invece in sacca la scaletta eh ma pure la scaletta eh sì mi sa la scaletta ma io effettivamente e basta perché tanto le faccio in due turni quindi apposto e quindi hai fatto due azioni ah no due azioni e la terza fai una mastery faccio una mastery sì sì faccio una mastery e quindi faccio questo e questo meno male Paolè che mi ha lasciato quella che mi serviva eh 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 quindi io mi hai detto la scaletta mi hai portato fuori strada l'ho fatta apposta scusa eh eh vabbè ma qui me le sta a chiamare però me le stai a chiamare cavolo ah penso che non me la posso lasciare sfuggire quindi adesso ho fatto due azioni con la terza azione vado semplicemente a mettere questo qua ok 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 senza che lo metto un po' più di toglie prendo questo e no la prendo questo pezzo vai corre allora prima azione prendo costella seconda azione prendo eh diciamo che comunque non è un gioco breve comunque ci vuole quella con la mezz'oretta vabbè di riflessione è vero diciamolo ok per noi mezz'ora è uno stuzzicadenti il problema è il corrado che siamo abituati ai giochi da un'ora e mezza a due però per qualcuno mezz'ora insomma sì diciamo va dalla mezz'ora ai 45 minuti quindi a seconda ovviamente come come si evolve il gioco quanto i giocatori puntano sulle tessere nere e cose così insomma faccio la mastering e quella mi finisce no e domanda i pezzi si possono anche capovolgere? sì li puoi anche flippare oltre che ruotare allora come seconda azione questa la metto qua flippa il quadrato mettila a rumbo eeeh scusate ho preso due carte come ultimazione sto facendo la mastery quindi ho piazzato quella piazzo questa e dai poi piazzo questa ok e mi fermo mi ti fermo ti vai paolino allora io faccio tamasteri tamar tamasteri e poi con azione piazzo il quadratino giallo ma non lo vado a piazzare quindi prendo questo è un verde da delle tre putti e poi questo prendi la L questo e prendo la L la famosa legge della L e poi potrei approcciare potrei approcciare senza andarmi a incastrare negli angoli a prendermi allora se quella la posso flippare questa la metto così via metto su andando a massimizzare i punti dai così senza ragionare poi la ragiono dopo ok allora 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 che ci vogliamo prendere che ci vogliamo prendere mi prendo questa ok adesso faccio faccio no perché questa mi voglio prendere questa mi voglio prendere questa ah si la prendo questa ed è la mia prima azione poi faccio la mastery quindi metto questo qui poi metto questo qui e poi metto il pilloletto qua qua e questa era la mia seconda azione quindi questa viene via con me e mi prendo una L l ora ma prendo una L L poi questa qui che mi da un pezzettillo verde ok poi come ultima azione io mi vado a prenotare questa che c'è qua allora io inizio con la mastery oppure inizio con la mastery guarda i punti che c'è Paolo mamma mia una qui una qua e una ad esempio qua quindi raccolgo questa come seconda azione vado a riempire questa quindi raccolgo un quadrato e come terza azione vado a piazzare un quadrato qui e basta allora no aspetta ho sbagliato dichiara questo è uno dei motivi per cui mi sta un po' antipatico table topia allora questa metto qui questa metto così scusate sto a fare un piccolo ragionamento che potevo fare anche prima avete ragione Paolo volevo farti notare che avevamo ragione eh no sì sì ma avete avete ragione pienamente e niente dai mi inizio a riempire gli spazi tanto me ci vuole parecchio potrei fare una mastery potrei prendere tipo questa e fa una mastery quindi piazzo questa qui questa qui e poi con l'ultima azione mi piazzo questa qui c'ha tutti i pezzi che bello ok quindi toccherebbe mua toccherebbe e toccherebbe mua allora io mi prendo questa poi faccio la mastery uno due tre e poi quattro quindi questa l'ho completata preghetta prendiamo un verde questo spiebi pieno di verde questa invece mi da un blu e mi da blu 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 i blu i shushya e poi questo mi da un'altra l non a caso si chiama project l ok allora io prendo questa questa e poi mastery quindi questo qui questa opportunamente ruotata di 90 gradi in codesta posizione e questa qua questo codesta è quello ho ruotato tutto ho ruotato il tavolo praticamente quindi prendo un un pezzo da 4 dritto e una L fai come i carabinieri invece di girare la lampadina e giri la baciura esatto come quello sulla bozza dell'auto no? che bisogna soffiare entra la marmita cretino apri i finestrini no? no chiudi i finestrini chiudi i finestrini ma quanti pezzi c'hai? c'è un bel po' ma quanti punti c'hai? no punti pochi 6, 7, 8, 9, 10 ungi tu ungi ti ungi ti io ce n'ho 2, 4, 6, 8 poi sì però ce n'hai 5 in canna tu? Paolo ce n'ha 9 in canna vai Paolino 11 allora io penso io penso che faccio 1 io penso positivo 2 non mi ce n'ho a finire e 3 e me sto buono 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 guarda non hai fatto la mastery? no perché se non mi basti i pezzi per io che ho combinato qua io ho fatto la mastery ma aspetta però questo andava qua l'ho tolto? eh sì no andava lì e questo l'avevo fatto tanto che l'ho preso quello che mi mancava sì la seconda striscia pardon scusate la confusione ti fai le strisce vuole dire? buono è l'illusion tu hai finito voler? sì allora l'ho tolto qu'un moi l'ho tolto qu'un l'ho tolto qu'un moi mais oui l'ho tolto le volevo parfois l'ho tolto l'ho tolto vado a fare una mastery una mastery oui una mastery oui qui questa è qui e questo è una carta aspetta eccolo eccolo che sei in carta infatti ho cercato di focalizzarmi proprio per non andarmi a incartare io prendo una due e poi vado a fare la mastery ecco la mente calcolatrice uno due tre appino la calcolatrice prendo un pezzo da tre questa va a casa basta una sola carta nera quindi quando finiscono queste giusto? no quando non si può più riempire la fila quindi le prossime se prendi probabilmente se prendi due carte nere e righieri la fine della partita ok fatto corrado? sì allora io vado a fare una mastery faccio così e così va bene si capisce quindi questa me la vado a mettere qui questa la metto qui questa questa la metto qui questa la metto qui questa la metto qui questa la metto qui e vado a prendere una di queste e poi con le altre due azioni vado a fare uno e due abbiamo un vincitore abbiamo un vincitore e vado a fare uno due e e va vaccina potete andare intanto prende solamente un quadratino giallo io intanto faccio la mia mastery quindi metto questo qui così guarda che bello che gusto a me questi giochi di incastri come level 9 no? esatto sono incastro vero? metto questa qui così ok e quindi ho completato questa 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 era la mia prima azione la prima azione non si scorda mai la prima azione bella poi con le altre mie due azioni potrei cosa? io mi sa che non ho preso una una c c'è non solo una potrei fare si devi prenderne un altro allora qui è ardo la cosa perché siamo verso il fine di partita pari attesa già già ho la mia ultima azione mi prendo questa vai guardalo ma guarda io ho un punto non ci sputo sopra questa la prendo poi faccio la mastery quindi uno due e tre e e e tre e come ultima azione vado a mettere questa qua e io triggero il fine partita poi corrado fa l'ultima azione giusto? tutti quanti facciamo l'ultima azione tutti quindi anche io faccio l'ultima azione sì sì c'è un ultimo round un ultimo turno quindi potrei fare tipo una due ok triggeri fine partita eh non si può più prendere giusto? non si può più riempire ma prende tessere no vabbè non mi conviene perché poi faccio una mastery aspetta mi fai vedere un attimo una cosa che aspetta che non mi ricordo è da 5 giusto se per sbaglio allora quando è finito l'ultimo round ogni giocatore può piazzare un qualsiasi numero di pezzi dal loro riserva nei puzzle che c'hanno in fronte a loro pagando un punto per ogni pezzo che mettono ok ah ok poi aspetta aspetta forse non le vuoi prendere con le tessere perché deduci punti per ciascun puzzle che è stato che è incompleto i punti? sì quindi queste due da 5 se tu non le completi sarei meno 10 sono meno 10 praticamente esattamente e allora invece faccio così magari non triggeri la fine partita esatto ora non è triggerata in prima azione è preso questa tessera da 5 sì seconda e terza è piazzato con due pezzi seconda e terza piazza di cavoli vedi non la sapevo sta regolando infatti mi ricordavo che c'era un qualcosa del genere quando ho visto prendere quelle di tessere a 5 ho detto fammi controllare hai visto mai quindi tocca a me ok allora io vado a fare la master quindi metto questa qui poi metto questa qui poi metto questa qui come seconda azione metto questa completo e me da un altro quadratino che bello ma che bello il quadratino ma con di rondino con l'ultima azione invece attimazione e tutti trigger i tool fino a partita quindi adesso a me è rimasta una sola azione ma se lo trigger io significa che ho solo un turno esatto e quindi te la sbatti in the face esatto tecomi ne prende quella da 3 se vuoi trigger al fine partita a questo punto come sia questa allora tanto non riesco a completarne nessuna perché no vabbè se ne prendessi una nuova considera che c'hai due turni tu no no uno solo questo è il prossimo eh tu non hai trigger il fine partita no 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 quindi puoi prenderla fare una mastery e che posizione tutti i pezzi prendiamo questa da due allora poi masterizzo i punti proprio gli spicci i spicci però che in giro una due tre e quattro bella quindi faccio ci abbiamo vincito questo eh sì questo e questo che vengono a casa esatto vai vai intanto Paolo non c'è un'altra azione no hai presa una hai fatto la mastery ah è vero c'è un'altra azione caspita ancora un'altra azione ma un pezzo in più non mi serve triggererete voi il fine partita maybe yes maybe no la Yuri ha tanto da riempire fa una mastery beh proviamo a prendere questa da uno vai Paolino qualcuno ha da trigger up e forza è Paolino momento di riflessione il problema è che se triggera Paolo a me in qualche modo eh sì ne frega stavi per dire quello vero sì esatto però io potrei fare uno due e mastery ma io ho paura mi morda no che mi ricordati che puoi sempre spendere un punto per piazzare un pezzo alla fine uno che ovviamente che sia per completare due e poi e poi master ma ok uno e due quindi triggerato il fine partita cioè c'è un altro turno io giusto tu sì ok quindi visto che me la so calcolata bene mi faccio una mastery e c'ho pure i pezzi giusti mastery qui mastery qua mastery qua e ho me manca due azioni con una completo questa e con una con una con una con una con una perfetto quindi ho perché ho agio finito allora io faccio la mastery quindi questa qui questa qui che è la prima mossa come seconda mossa faccio questa e come terza mossa faccio questa e quindi anche io lo completate tutte ok io oppure faccio piazzo uno completo questa e poi piazzo uno e due e ho completato anch'io tutto ma ci siamo andati se mostrando Yuri hai Yuri hai l'ultima azione no io ero il primo giocatore ah eri tu il primo allora niente allora il sette ho al conteggio 13 più 16 19 20 21 23 24 10 20 22 25 no 25 per un puntino ragazzi per un puntino bravo secondo per un punto non è contento sì sì come al mio solito te sei l'uomo del secondo da un punto ormai allora questo gioco quando me l'hai spiegato ci sono rimasto un po' meh meh giocandolo è fighissimo altri altri 29 euro quanto costerà che partiranno guarda io io allora una nota che vorrei fare che io l'ho presa da keystarter allora i materiali sono stupendi sì ok queste queste plancette che vedete qui sono triplo strato sì belle arte perché c'è lo strato dietro poi c'è gli altri due strati su cui è fatto l'incavo ok perché avevano provato a fare lo suo doppio strato ma facendo l'incavo il retro rimaneva si affossava praticamente quindi sono dati del triplo strato i pezzi questi qua sono cioè sono belli perché sono tutti di plastica lucida però per mio gusto personale forse avrei legno l'avrei apprezzato di più sì io pensavo infatti che era di legno la plastica è anche un po' più economica vabbè probabilmente non costerebbe 30 euro comunque anche abbiamo visto 30 euro il prezzo se lo ricordo male giusto il classico 29,90 o 30 o 35 potrebbe stare più o meno allora c'è anche da dire però che la plastica sicuramente si dice meglio allo stile minimalista delle tessere mi richiamo un po' Tron no? con i colori in fluo il nero esattamente quindi diciamo ripeto anche la scatola è semplice nera con sta mega L blu centrale insomma ti dico anzi fate una cosa dite le vostre impressioni da prendere la scatola così faccio qualche pezzo va bene va bene l'esclusiva è rosigata certo vabbè anche perché noi lo vediamo tra poco non mi ricordo Asmode ma comunque siamo all'ultime battute guarda arrivo in magazzino giugno 2021 vediamo un po' si proprio sul sito di Asmode Italia di Asmode dove si trova è ufficiale è ufficiale soprattutto quando hanno pubblicato quell'altro gioco che aspetto da tanto tempo volevo vedere il prezzo ma non lo trovo mi pare ho in testa 30 euro ma ne sono abbastanza sicuro ma siccome è una memoria veramente pessima se guardi su BGG magari un po' con il prezzo americano ci si può fare un paragone a quello che arriva in Italia ma io ho trovato un sito italiano che lo dava in preordine vediamo in preordine ah ah ce n'è uno che è già aperto i preordini sì sì allora questa è la scatola eh beh guarda quanto è bella non è manco grandissima ma la versione retail sarà comunque la scatola lì o perché mi sa che è leggermente diversa forse la scatola retail non te lo so dire non so con sicurezza che ho visto le un po' più esatto l'ho vista tipo così ah ok può darsi il libretto che ha fatto pagine nere scritte bianche per mantenere per accecarsi poco questa è l'unica cosa che è proprio però alla fine serve più come riferimento che altro se non è 30 è 29,99 ecco e poi qui ci abbiamo quindi è meno di 30 euro esatto per meno di 30 euro in gioco così gli spessorini e poi qui ci abbiamo non so se riesco a farla e ci puoi fare del dettaglio dello scavetto un po' da ecco guarda che bello mettici un pezzettino dentro per far vedere che non fugge esatto un pacco con i vari ti ha giocato con con la prole sì sì questi vedi i pezzi far muove eccoli qua vedi le plastica i pezzi vedi mettichi così eh beh così è molto più comodo no sicuramente dal vivo fossero state delle plance piatte sarebbe stato molto più ostico cioè esce un po' fuori se vedi il pezzo vabbè però ti dico secondo me ma ripeto a livello dei materiali secondo me è eccezionale che esce fuori secondo me anche da un punto di vista di game design è molto interessante perché comunque è sempre di facile presa lo scalino serve solamente per posizionarlo è una bella bella strategia no ma ti ripeto secondo me a livello dei materiali tu pensa che addirittura per far queste tessere qui ci hanno speso un sacco di tempo perché oltre al problema doppio triplo strato c'era anche il discorso che gli angoli delle tessere degli incavi questi qua per intenderci questi tipo gli angoli qui non erano abbastanza dritti erano troppo arrotondati e quindi lasciavano un po' troppo spazio i pezzi tendevano a muoversi troppo quindi i creatori ci hanno veramente dedicato un sacco di tempo anche con il discorso con chi produceva il gioco di progettazione no intanto progettazione proprio lavora insomma con quelli che producevano il gioco per fare queste tessere come le volevano loro capito che poi hanno fatto nella prima campagna c'era appunto l'espansione quella ghost e che erano di pezzi bianchi e l'espansione ambassador di quello 5 si l'espansione ghost questi qui di quello 5 e poi c'era l'ambassador che erano delle tessere che ti permettevano ci avevano delle azioni extra che potevi fare una volta quando cioè tu completavi quella tessera poi ti dava delle azioni extra che potevi fare e poi hanno fatto un secondo kickstarter con un'espansione che si chiama finesse che aggiunge una sorta di timer infatti qui ce l'hanno volendo e ragazzi se la volete vedere fatecelo sapere nei commenti che magari vi facciamo vedere una partita con l'espansione finesse perché è bella che aggiunge delle tesserine dove ci sono dei mini obiettivi e queste tesserine si girano una turno e tipo ne so più di 8 però ne posizioni quindi diciamo ti scandisce il tempo della partita noi qui l'abbiamo tirato un po' alle lunghe perché non volevamo chiude senza prendere lì invece c'è tipo c'hai 8 turni e c'ha delle cose in più insomma a me è quello che ha colpito di questo gioco è la semplicità di intavularlo perché il setup richiede quasi niente e spiegarlo anche so 4 regole in croce però al tempo stesso io l'ho trovato abbastanza profondo nel senso tanto è un gioco d'ottimizzazione se vai a guardare riuscire a ottimizzare la mastery è importantissimo certo anche perché giochi che magari finiscono con pochi punti di scarto è proprio lì poi la la bravura proprio nel nell'ottimizzare il movimento nel finire a lupo perché vedi se io magari mi fossi preso una carta da uno e non non fossi stato in grado di no vabbè ma noi siamo famosi come la la partita di Dante anzi se volete andate a guardare che abbiamo il pareggio io e te esatto vabbè tanto se tu pensi io ho fatto 22 curato 24 e te 25 cioè in tre punti poi non mi ricordo se si può giocare fino a 5 non avessi fatto i calcoli giusti nell'ottimizzazione dei movimenti quei tre punti mi sarebbero ritornati a boomerang e quindi Mari tu saresti stato secondo addirittura e poi comunque mi avrebbe si può giocare fino a 5 ecco l'unica cosa se cercato un gioco con un'interazione questo non fa per voi però diciamo che c'è l'interazione che ti rubo ti rubo è bassissima si si appunto è bassissimo guarda io ci ho giocato in due in tre in quattro diciamo che gira bene l'unica punto che vorrei fare è che quando giochi in due a me mi è capitata una partita anche sì ok magari una su 100 però giusto per dovere di cronaca dove nel turno mio non mi erano mai capitate quelle tessere che le chiudi con un pezzo piccolo mentre nel turno come è capitato a me all'inizio esatto mentre nel turno dell'avversario gli capitavano sempre quelle tessere che con un pezzo da uno o un pezzo da due le chiudi no un pezzo da uno mi pare che non ci so no un pezzo da uno e poi mi sa che il minimo è questa qui col pezzo da tre no da due c'è pure quella da due c'è pure quella che finisce col pezzo da due vabbè tipo questa qui c'è questa qui però c'è anche questa qui che si chiude abbastanza facile insomma c'erano queste tessere che si chiude facili che a inizio gioco sono capitate tutte nel turno dell'avversario e quindi io mi sono trovato con un handicap perché lui praticamente ha chiuso tre o quattro queste tessere in due o tre turni quindi c'era tutti i pezzi extra che si per carità magari su tutti i pezzi uguali non sono sti grossi pezzi però all'inizio mentre stai a creare quel motore e col discorso delle masteri diciamo ha influenzato però a parte quella non ho visto grossi difetti non so se voi volete aggiungere altro no no bel gioco bel gioco mi è piaciuto a parte che se volete acquistare progettelle tanto che gli arriverà potete cliccare sul link in descrizione per visitare il nostro store di fiducia giustamente mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui nostri contenuti iscrivetevi anche su Twitch Instagram TikTok che altro abbiamo? Facebook 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 e poi tra un po' andremo a creare un social tutto nostro esatto Fappibook solo di giochi a tavolo Fappibook esatto bella questa oh Facebrain no meglio Fappibook no meglio Fappibook Fappibook anche se poi sarebbe un po' ambiguo però lasciamo stare esattamente e va bene grazie a tutti di averci seguito e ci vediamo alla prossima ciao al prossimo video di Fappibrain ciao